Era diventato un tormento per l'ex, tanto da aver adottato nei confronti di questa condotte persecutorie che avevano generato stadio d'ansia e paura che l'avevano costretta a modificare le proprie abitudini. Per questo motivo Roberto Giacomelli, 58 anni di Roma, ordinario di reumatologia presso il Dipartimento di Scienze Cliniche Applicate e Biotecnologie dell'Università dell'Aquila e membro del CdA dell'Ateneo, dovrà affrontare il processo, fissato a metà novembre del nuovo anno al Tribunale di Roma, a disporre il rinvio a giudizio, il gruppo del Tribunale Capitolino Vilma Passamonti, dopo aver valutato il materiale probatorio raccolto e le testimonianze. Secondo l'accusa Giacomelli, con le sue condotte, avrebbe costretto la sua ex moglie a essere accompagnata a casa da amici e conoscenti, a variare gli orari relativi alle sue uscite di casa o a cambiare itinerari per evitare di incontrarlo, a rimanere in casa temendo i suoi continui appostamenti. Tra le accuse mosse anche chiamate incessanti al telefono, ma anche aggressioni verbali per motivi di gelosia, alla presenza sempre di amici e conoscenti e minacce violente con la frase «Se mi tradisci, ti uccido».